Voglio capire, da Usai una questione, dovremmo averlo in collegamento davanti al Nazareno per fargli sentire un po' di freddo o di intemperia. Mi spieghi! Allora, che è successo? Si è... che succede qua? Sta uscendo uno con la bicicletta? È Renzi! Guarda se è Renzi! Sì, si è di me... Hai fatto uscire Renzi da Nazareno? No, non è Renzi, è un signore con la bicicletta, però. Chi è? Ma chi è? Buonasera, noi siamo in diretta, però... No! Lei deve chiudere, lui deve chiudere, lei lavora qua al Nazareno, immagino. Immagino pure io. Immagino anche lui, però, insomma, non è Renzi, questo, anche se ha la bicicletta, non è lui. Bene, allora... Questo l'abbiamo capito. Usai si è dimesso... Probabilmente è il reggente, sì. Si è dimesso una seconda volta oggi, Renzi, e ci sono delle dichiarazioni di Orfini che fanno pensare, guardate che si è dimesso davvero, che succede?